In un deserto un giorno si incontrarono, senza volerlo per caso, si guardarono un tromedario ricco ed un cammello povero. Si salutarono, si oltrepassarono, poi si fermarono, ci ripensarono e ritornarono, si riguardarono. E il tromedario disse così, beh perché tu c'hai le gambe di ora solo una, perché mi guardi bambolato dalla dura, perché continui a masticare e non rispondi, dammene una, se ne la venga una fortuna ti darò. E il capello essendo bisognevo, per un momento si dimostrò rendevole, poi si guardò le gambe, con occhio lacrime volò. E allora ci ripensò, ah ah, e se li riguardò, ah ah, la testa dandolo, ah ah, e poi la sollevò, ah ah, lo sguardo corrucciò, il petto si gonfiò. E il tromedario disse così, sai tu che c'hai, io resto con due gambe e tu con una, perché non me ne importa della tua fortuna, perché sono povero ma bello e nel voluto. E dalla dura io ti saluto con due gambe e mi ne vuoi. Così si riconferma che il cammello è bigobbuto e il dromerano è un uomo come resta. Così si riconferma che il cammello è un uomo come resta.